Buonasera a tutti, ben ritrovati in una nuova puntata del TMW News, tanti temi da affrontare legati ovviamente al mercato. Andiamo subito a salutare Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, buonasera. Buon pomeriggio. Ti chiedo subito quali sono le tue sensazioni di questo nuovo Napoli con Rudy Garzia alla guida. Le sensazioni sono positive, Garzia è riuscito subito a mettersi in stretto rapporto con tutti i calciatori, del resto la squadra non è minimamente cambiata, quindi è Garzia che deve interpretare il Napoli per come ha giocato, per come ha vinto. E quindi sta facendo un buon lavoro, credo. Sta facendo un buon lavoro e deve fare i conti anche con alcune partenze su tutte. quella di Kim, secondo te è vero che il Napoli ha saputo sostituire alla grande Koulibaly, saprà sostituire anche Kim? Sei fiducioso sul fatto che non si avvertirà questa partenza? Ma l'assenza si sentirà, non c'è dubbio. Però bisogna anche dire che non è che è automatico che tu mandi via Koulibaly e poi prendi un fuoriclasse come Kim. Cioè lo hai preso un po' anche a scatola chiusa, anche se era seguito da tempo. Quindi Garzia va sul sicuro e ha chiesto Danzo. Danzo è uno che ha esperienza internazionale, per quanto sia molto giovane. Altri dicono Chalobo del Chelsea. Anche qui siamo di fronte a un 99, quindi ad uno giovane. Però il problema è che se De Laurenti se punta la Champions ha bisogno di un uomo di grande, grande esperienza internazionale. Ecco, invece parlando di giocatori che devono essere, dovrebbero essere punti fissi, Osimène secondo te fino alla fine sarà un punto interrogativo? Oppure magari ad un certo punto verrà anche chiusa questa vicenda in qualche modo? Guarda, per due motivi Osimène resta. Il primo è che non c'è il cosiddetto duecentino che chiede De Laurentiis. 200 milioni non li tira fuori nessuno. Somme così si tirano fuori in Arabia, ma per prendere soltanto calciatori che hanno già un'immagine, che hanno già un passato. Sicuramente Osimène è un grandissimo calciatore, però è ambizioso, vuole vincere. Gli altri vanno in Arabia avendo già vinto quello che potevano vincere. Lui resta anche per un altro motivo. C'è grande clima intorno a lui, un clima di simpatia, di affetto, e lui non è insensibile a questo. Il secondo motivo è che non essendoci un compratore è chiaro che De Laurentiis fino alla fine aspetterà. Poi bisogna vedere che cosa fa il Paris Saint Germain con Bappé, che pare destinato anche lui in Arabia Saudita. Però, vedi, questo è un mercato nel quale stiamo dando per scontato troppe cose, troppi passaggi. In realtà non si è mosso quasi niente. L'Inter ha fatto delle operazioni, il Milan ha fatto operazioni per 60 milioni, quindi grandi cifre non si stanno muovendo. Il migliore acquisto del Milan è stato Pulisic. La Fiorentina si è mossa, ha preso dei buoni calciatori. Ha preso, per esempio, Parisi, che è un terzino sinistro, ed è molto, molto, molto bravo. Vedrete se avrò ragione oppure no, a parte che lui ha già dimostrato quello che sa fare. La Fiorentina sta per prendere anche Demme, che è un ottimo centrocampista. Proprio dal Napoli ci sarebbe uno scambio. Però, al di là di questo, io vedo, come dire, soltanto grandi esternazioni degli allenatori. García è molto prudente, però vedo Pioli che punta alla seconda stella, quindi al ventesimo scudetto. Inzaghi è sicuro di vincere e di far bene anche in Champions. Ma, al di là di tutto questo, movimenti di mercato veramente seri, per quanto riguarda i club italiani, non ci sono. Restando sul Napoli, comunque, sei rimasto sorpreso dalla grande rinuncia, per amore, da parte di Zielinski, che si è ridotto l'ingaggio, ha prolungato il contratto. Ma, anche qui, Zielinski è un calciatore che vuole vincere. Cioè, il problema è, vedi, la differenza tra quelli che vanno in Arabia con ingaggi stellari, 300 milioni. Io ci andrei a piedi per una cifra del genere e anche a nuoto. Però, al di là di questo, cosa che faresti probabilmente tu e tutti quelli che hanno la bontà di seguirci in questo momento? Ma, al di là di tutto questo, Zielinski vuole vincere ancora. Zielinski è un eroe, dalle parti sue, in Polonia, vuole vincere. C'è la possibilità, con Napoli, di vincere ancora. Se non altro di andare. Vai in Arabia, che cosa fai? Ti compri un'altra Ferrari e finisce lì. Sì, c'era anche il richiamo di Sarri, l'allenatore che lo ha lanciato nell'Empoli, e quindi poteva anche esserci questo trasferimento alla Lazio. Chiaramente, se si deve misurare quelle che sono le ambizioni, al Napoli ce ne sono di più. Guarda, io su questa operazione un po' penso male, perché intanto Sarri si è arrabbiato con Lotito, perché voleva Zielinski a tutti i costi. Per la verità, Sarri voleva anche Politano, ma Politano mi pare che non si muova da Napoli per nessuna ragione. Su Zielinski, beh, insomma, voglio dire, c'è stato un po' prima un rialzo, poi improvvisamente un ribasso. È chiaro che quando un calciatore vede che non gli danno più i soldi che lui voleva, si accontenta di quello che ha. Certo, no, no, è una tesi assolutamente condivisibile la tua. Per quanto riguarda le altre squadre, dicevi, del Milan e dell'Inter, invece le tue riflessioni sulla Juventus, che ancora non sta prendendo forma, quali sono? Ma guarda, la Juventus ha dei problemi seri. Il primo è di carattere economico, il secondo è di carattere, diciamo, legale, federale. E poi, voglio dire, aggiuntoli che sta cercando di far quadrare i conti con la Costituzione, con la rinascita di un club che sicuramente è importante. Io non immagino un campionato senza la Juve. Qui non è questione di essere pro Napoli o pro Milan o pro Inter. Si tratta di essere pro calcio. Cioè, voglio dire, abbiamo un campionato dove ci sono dei club, dei top club di importanza planetaria. La Juventus è uno di questi. Milan, Inter. Sono contento per la rinascita della Fiorentina, che ha fatto delle cose buone. Tanto è vero che Napoli voleva il suo allenatore inizialmente. E ha fatto bene anche l'allenatore italiano a restare con la Fiorentina, perché è una squadra con la quale può fare un discorso di crescita. Però, per il resto, almeno per quello che mi riguarda, per la mia esperienza, dico che è un calciomercato un po' asfittico. Eh sì, soprattutto con questa grande novità rappresentata dall'Arabia Saudita, di cui dicevamo poco fa, anche Milinkovic-Savic ha lasciato l'Italia per l'Arabia Saudita. Prima dicevi dei centrocampisti, dei giocatori che devono avere ambizione. Probabilmente poteva ancora continuare in Europa Milinkovic-Savic, tanto per rimanere sul calcio. Sai, l'Arabia fa l'operazione che ha fatto la Cina. Ancora ne ho 35 anni, ecco. Ecco, guarda, l'operazione che fa l'Arabia, avendo più soldi però, è quella che ha fatto la Cina. In Cina è stato fallimentare. Ti ricordi che tutti i calciatori a fine corsa andavano lì, come sono andati per tanti anni negli Stati Uniti. Però negli Stati Uniti il football europeo sta prendendo piega, in Cina un po' meno. Adesso la rabbia punta ad una questione di immagine. Abbiamo già visto che cosa è successo nel Qatar. Al di là di tutte le polemiche, al di là delle inchieste, al di là di tutto quello che abbiamo letto, scritto e detto attraverso la radio e la televisione, resta il fatto che il Qatar e Dubai sono rimasti al centro dell'attenzione mondiale. E così anche in Africa, con la Coppa d'Africa. Quindi c'è un altro mondo calcistico che noi non conoscevamo che sta crescendo. E con i quali mondi, Africa, Arabia, ma anche Cina e Stati Uniti, dovremo fare i conti. Salvatore Piazzo, grazie mille. Alla prossima. Grazie a voi per avermi invitato. Diamo il benvenuto ad Alessandro Calori. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Guardando questo calciomercato, chi si è rinforzato di più fino a questo momento tra le big? Chi è che ti ha colpito di più dal punto di vista dei movimenti che ha fatto? I movimenti importanti l'ha fatto soprattutto il Milan. Anche si ha perso Tonali, però ha portato in organico giocatori importanti che hanno un curriculum di tutto riguardo. Poi il Napoli è rimasto un po' lo stesso, quindi è quello che ha vinto. E quindi non è che c'è bisogno di cambiare tanto, di aggiungere qualcosa. Le altre stanno ancora all'inizio che capire dove andare a trovare le situazioni giuste per aggiungere un qualcosa organici già importanti. Napoli riparte da Garcia, è un allenatore che secondo te può lasciare il segno anche dal punto di vista dei risultati, confermarsi non è facile per nessuno. Si è preso una patata bollente, tra virgolette, nel senso che comunque dopo uno scudetto vinto è complicato per qualunque altro allenatore arrivare l'anno dopo. È una bella sfida, ma è un allenatore esperto, è navigato, conosce queste dinamiche. Poi a Roma ha fatto cose importanti, quando era qua in Italia conosce il campionato, conosce anche le dinamiche e questo è un grande vantaggio. Penso che ci abbia tutto da guadagnare, perché prendere una squadra che ha vinto lo scorso anno c'è entusiasmo intorno a essa. La gente vive, sta continuando a festeggiare questo evento che è successo dopo 33 anni, ha una squadra importante. È vero, ha perso Kim, forse uno dei migliori difensori del campionato scorso anno, però tutto il resto è rimasto... Deve rimanere la voglia di stupire, perché per vincere non puoi vivere di ricordi, ma cercare di fare un percorso ricco di grandi motivazioni e soprattutto di desiderio di continuare a vincere. Bisogna che la pancia non sia piena, ci siano ancora motivazioni, dicevi. Spesso si succede, perché dopo quando senti dirti bravo in continuazione, a volte abbassi la guardia e dopo diventa pericoloso, perché per vincere devi stare sempre sul pezzo, devi sempre avere qualcosa di straordinario dentro e quello lo ritrovi e riuscire a trovare... Questo deve essere bravo appunto Garzia a trovargli le grandi motivazioni a questa squadra. La Juventus invece sembra un cantiere aperto, sia perché ci possono essere delle clamorose cessioni, sia perché dal punto di vista degli acquisti ancora si può muovere fino a un certo punto. La Juventus è arrivato giuntoli, io credo che sia un toccasano anche per il mister Allegri, che è una figura aggiuntiva lui, quindi possono lavorare insieme e ricreare una Juve vincente. Adesso ci sono chiaramente da valutare e fare delle scelte, anche scelte pesanti, per esempio di lasciare fuori Bonucci, poi c'è il dubbio se tenere Vlaovic e prendere Lukaku oppure no. Sono delle cose che vanno valutate, ma penso che hanno l'esperienza e la capacità per farlo. Giuntoli sicuramente in questo è un aggiustatore, è uno che è un allenatore, può aiutarlo a indirizzare e cercare con le esperienze che alleghi e la conoscenza che ha della Juve, può diventare un binomio importante loro. Di Bala invece, parlando della Roma, va verso il rinnovo del contratto con i giallorossi e pare che comunque nei giorni scorsi ci sia stato un tentativo da parte dell'Inter per arrivare a questo calciatore, non è nuovo l'interesse dei nerazzurri per Di Bala. Io credo che in questo mercato, con l'avvento dell'Arabia Saudita, di sicuro non ci sia niente, perché questi quando vogliono prendere un giocatore sanno come fare, come proporre, quindi io credo che sarà un mercato che dovrà, per dire che sia concluso o che sia stabile, ce ne voglia del tempo, perché trovare, ecco, l'Arabia Saudita ha questa intenzione di voler creare una lega importante e portare tutti i migliori giocatori in quella parte del mondo, quindi io credo che ancora si vedranno delle belle. Di Bala, chiaro, sarebbe forse il giusto erede di Totti, sarebbe quella figura di giocatore che dà entusiasmo alla gente e fa divertire, soprattutto con le sue giocate, chi lo va a vedere, quindi se rimane la Roma credo che sia un gran colpo. E invece la Lazio, secondo te, come si sta rimodulando per la prossima stagione? Sarri si aspettava a questo punto dell'estate qualche rinforzo in più? No, ancora il mercato è lungo, cioè non è che si può definire adesso e dare un giudizio, io credo che giustamente per fare un mercato bisogna avere la pazienza, perché non è che si può andare là come supermercato a prendere i giocatori, bisogna dare il giusto peso, il giusto valore anche ai giocatori. La Lazio ha già perso Milinkovic, però potrebbe essere rimpiazzabile, anche se un giocatore è stato in ultimi anni forse determinante, è stato un leader giovane e quindi rimpiazzare non è facile. Adesso trovare un altro della sua calatura, le sue capacità non sarà facile. Però ecco, c'è già un organico importante, lo scorso anno sono andati secondi e quindi ha fatto un gran campionato. Adesso forse quello che chiedeva mister Sarri appunto era quello di poter rafforzare e dare ancora più forza a questo gruppo e penso che adesso sarà direttamente lottito a trovare gli uomini adatti alla richiesta del suo mister. Tra l'altro per quanto riguarda la Lazio è arrivato anche Sou per 14 milioni più 2 di bonus, una Lazio che aveva cercato nei giorni scorsi anche Ricci, ma ha dovuto incassare il no del Torino. Sì, il mercato è questo. Oggi no, può darsi che domani sia sì e viceversa. Il mercato ha questo effetto, fino a che generalmente alla fine si chiudono poi le trattative, no? Però intanto si è presa per tempo, ha trovato un giocatore che magari a livello internazionale è un buon giocatore e lo andrà a aggiungere a quelli che hanno già in rosa. Anche Berardi sembrava un obiettivo. Berardi è un giocatore che ormai penso che la carriera a Sassuolo, la sua, è stata un po' una storia, una bella storia, è stato tanti anni là, è l'emblema. Anche per lui credo che per staccarsi non sia facilissimo. E quindi sarebbe stato un obiettivo importante perché è un esterno, forse uno degli esterni più bravi che c'è in Italia. Nel saltare l'uomo, nella conoscenza di calcio, nelle qualità. Berardi è ancora uno che potrebbe potenzialmente aggiungere un qualcosa, un organico già apportante. Un'ultima considerazione anche sull'Udinese, da ex Friulano, Udinese che riparte da Sottil. C'è stato il prolungamento del contratto anche per De Lofeu. Su che basi nasce questa Udinese? Sicuramente se rientra De Lofeu si riporta a casa un giocatore che fino a che era in campo ha fatto la differenza lo scorso anno. Poi ha avuto un infortunio grave e adesso è rientrato. Se sta bene è un bel acquisto De Lofeu perché se rimane Samarczyk, se rimane Beto, sono giocatori che hanno un anno in più di esperienza. Anche se hanno perso Pereira, che Pereira è un giocatore sicuramente per esperienze e qualità, forse l'uomo di riferimento è stato negli ultimi anni. Però la filosofia dell'Udinese è sempre stata una, cioè quella di non rimpiangere chi va via ma sostituirlo già per tempo con giovani che magari inizialmente nessuno li conosce o pochi li conoscono, che però piano piano si formano e diventano poi in futuro spesso giocatori importanti. Quindi da quel lato lì l'Udinese è una garanzia. Alessandro, grazie come sempre. Alla prossima. Buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Dunque dopo questi spunti di riflessione che ci ha offerto Alessandro Calori siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMW News. Appuntamento a domani. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.